Se per Nicola Morandini partecipare alla marcia longa è un modo per tenere viva una tradizione familiare, Moreno invece vuole dimostrare a se stesso di essere ancora in grado di competere ad alti livelli. Saria proprio che ti sforzi un attimo di tornare su bene, cercare proprio di portare su. Sì, di proiettarsi in avanti. Esatto. Mi ha spiegato un po' di tecnica che mi era un po' persa per strada dopo tutti questi anni. Ero bello concentrato sul movimento che mi aveva appena spiegato, però ogni tanto mi veniva in mente mio papà e mio fratello perché li ho lasciati proprio qua nella merda. Fammi vedere, vai che per una larga noccia.